Abbiamo completato i lavori in premologia nell'ospedale di Ostuni. Finalmente consegniamo al dottor Bracciare, che è il direttore dell'unità operativa complessa di premologia, i nuovi posti letto di terapia subintensiva con una camera a pressione negativa. Questo ovviamente completa l'offerta sanitaria del presidio ospedaliero di Ostuni, che rimane per fortuna un ospedale non Covid. Avevamo previsto che Ostuni diventasse Covid nel caso si fosse verificata quell'ondata che invece è avvenuta purtroppo nelle regioni del nord. Quindi completiamo l'offerta della premologia, dove abbiamo dei professionisti eccellenti. Ovviamente a breve sono già partiti i lavori nei reparti temporaneamente sospesi di ortopedia e chirurgia. Il 31 maggio la consegna della prima ala, dove riprenderanno a lavorare tutti i sanitari con reparti accorpati di chirurgia e ortopedia. Per la fine di luglio invece prevediamo il completamento della seconda ala. Quindi l'ospedale di Ostuni per l'estate avrà i reparti completi, rinnovati, ristrutturati, in modo da poter accogliere i pazienti in ambienti più decorosi. Ci ritroviamo qui dopo circa due settimane e come si era promesso il reparto di terapia semintensiva è pronto. Sono stati bravissimi perché in tempi record hanno messo su una struttura veramente eccellente e tutta nuova. Aspettiamo l'accreditamento per poter cominciare poi a ricoverare i primi pazienti che hanno bisogno di supporti ventilatori comunque di terapia semintensiva.